Ciao a tutti ragazzi, anche oggi siamo qui per un nuovo assaggio, anche questa volta ho preso questo snack da Daiso e come potete vedere si tratta dei famosi pochi ricoperti di cioccolato alla fragola. Ovviamente tutta la confezione è in giapponese, ma l'unica aggiunta è questa etichetta qui che riporta appunto gli ingredienti e le informazioni nutrizionali e l'azienda che importa questo prodotto. Ok, ho aperto la confezione, c'era dentro questo sacchettino, come vedete è tutto molto ben decorato con le fragole e adesso assaggiamo. Ovviamente so, tantissimo di fragola, anche il sapore è molto buono, molto dolce. Questi so che si trovano anche in Italia quindi non fateveli scappare, ne mangio un altro. Se il video vi è piaciuto mettete un like, commentate e condividetelo e iscrivetevi al canale se vi fa piacere. In descrizione vi lascio tutti i link ai miei social, in particolare Facebook e Instagram che sono quelli che uso di più e sto cercando di usare anche Periscope ma avrei bisogno di qualche spettatore in più per le live. Quindi se volete seguirmi, seguitemi anche lì. Ciao! grazie a tutti! Grazie a tutti